Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Il padronato cosmopolitico e i suoi grigi tecnocrati di Bruxelles hanno già deciso peraltro da tempo. L'Italia dovrà accettare il mess, dovrà dunque porre la propria testa gloriosa nel cappio che definitivamente ne sancirà la morte, essa non gloriosa. Del resto gli stessi politici italiani, che figurano sempre più palesemente come semplici maggiordomi alle dipendenze del grande capitale borderless, hanno dato già da tempo anch'essi, verosimilmente, la propria approvazione. Debbono soltanto trovare la via giusta, laurea via, per far sì che il popolo accetti ciò che ad oggi è risultato indigesto al popolo, il mess stesso. Conte ha provato nei giorni scorsi a muoversi in maniera ondivaga da visconte dimezzato quale si è rivelato, giallofucsia al tempo stesso. Prima ha detto al Financial Times che il mess si sarebbe fatto, poi ha ritrattato dicendo che già mai si sarebbe fatto il mess e ha poi dato conto insieme al suo fido Scudiero Gualtieri che l'Eurogruppo ha aperto alla possibilità del mess ma che esso mess verrà utilizzato sicuramente da altri paesi e non dall'Italia. Intanto l'Eurogruppo ha approvato la possibilità del mess. L'Italia, ha detto Conte, utilizzerà gli Eurobond, già mai il mess, ma è altresì evidente che la Germania di Frau Merkel già da tempo ha detto, appoggiandosi anche all'Olanda, maestra del rigore, che mai concederà all'Italia gli Eurobond. L'Italia dovrà utilizzare il mess. Questo è stato detto inequivocabilmente dalla Germania di Frau Merkel. Sicché è evidente che Conte, che non ha il coraggio e non ha neppure l'intenzione di percorrere l'unica via percorribile, che è quella dell'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, che è la sola soluzione praticabile, decorosa e degna di un popolo glorioso quale fu quello italiano, proporrà gli Eurobond, gli Eurobond verranno respinti e quindi si accetterà il mess sommessamente e sarà la fine della patria. Del resto il mess, che fino a ieri era inammissibile per tutti, già oggi nel dibattito pubblico figura come plausibile, se non addirittura come la migliore strategia. Così ha detto tra gli altri Silvio Berlusconi, errore clamoroso non accettare il mess, dire di no al mess. E proprio oggi sul rotocalco turbomondialista della Repubblica compariva un intervento ben visibile di Marcucci del PD che diceva che è sbagliato il no a priori al mess. E altre compagini della guarnigione fucsia delle sinistre hanno anch'esse aperto in maniera incondizionata al mess. Romano Prodi tra l'altro ha detto testualmente che il mess deve essere discusso e può essere benissimo accettato. Lo stesso Maratin, l'economista fucsia, ha apertamente detto che il mess non è un mostro che che ne pensino i 5 stelle. In sostanza per ragionare con l'immagine della finestra di Overton si tratta per i potenti di far passare un po' alla volta l'inammissibile verso la dimensione dell'accettabile fino a che ciò che in origine era inammissibile diventi in ultimo inevitabile. Questa è la strategia scelta e in questi giorni si adopereranno sempre di più per far sì che il mess inammissibile diventi inevitabile e per far sì che alla fine venga approvato.